Che musica suona Trieste? Brahms per me è maestosa, è appassionante, è essenziale perché Brahms diceva che il problema non è scrivere le note, è togliere tutte quelle che non servono e quindi è proprio questa passione che vedi nelle mura, nella gente che si muo la sera, c'è sempre gente in giro, è difficile dire adesso mi faccio due passi da solo, no c'è sempre qualcuno in giro.